Dal Quarticciolo a Villa Panfili da Torbella Monaca ad Ostia, presentata la nuova stagione dei teatri in comune, la rete di spazi per lo spettacolo diffusa sul territorio. Ce ne parla Donatella Ansovini. Una programmazione che punta su realtà artistiche e creative locali attraverso i diversi linguaggi del contemporaneo, valorizzando le iniziative dedicate a tematiche sociali, e il biglietto da visita della nuova stagione dei teatri in comune, la rete di spazi per lo spettacolo diffusa sul territorio, strumento di coesione sociale e presidio culturale per i cittadini di tutte le età. Il teatro Torbella Monaca torna sulla scena romana a svolgere il suo ruolo di presidio culturale, con un importante partnership con il teatro Eliseo. La cosa importante è che questo teatro abbia riaperto la porta e che quindi, voglio dire, sia di nuovo in grado di accogliere quelle persone alle quali è mancato tantissimo in quest'anno di chiusura. Siamo felici di essere tornati.